Entro fine settimana magistrati e cancellieri dovranno preparare il materiale da trasferire il 3 dicembre dalla vecchia sede della procura in via Nazare Anzabari all'ex palazzo Telecom Appoggio Franco. Si prevede un tempo di circa due settimane per svuotare gli uffici. Dal 31 dicembre, come stabilito dalla proroga dell'ordinanza del comune di Bari, nessuno potrà più entrare nel palazzo dichiarato inagibile a rischio crollo. Proprio a Appoggio Franco, dove saranno trasferiti nei prossimi mesi in quattro diversi piani, la procura della Repubblica e le sezioni dibattimentali si stanno ultimando gli allacci per gli impianti elettrici del gas e alla rete informatica, ma i lavori per le aule di udienza del Tribunale richiederanno ancora del tempo perché solo all'inizio. La giustizia penale barese quindi continuerà ad essere amministrata in cinque diverse sedi, con i magistrati in quirente Appoggio Franco, gli uffici centralizzati della procura e le cancellerie del GIP in via Brigata, il riesame in piazza De Nicola, le udienze preliminari a Bitonto e il Tribunale a Modugno, dove da poco sono ricominciati i processi ordinari dopo mesi di sospensione. Una situazione davvero drammatica che sta passando nell'indifferenza della cittadinanza e della politica. Per molti l'unica soluzione definitiva sarebbe ripensare alla realizzazione del polo della giustizia.